notizie dall'ucraina il podcast di adn kronos dedicato al conflitto bentornati da carlo intini il conflitto in ucraina marca un passaggio epocale nella strategia di guerra aerea ma non solo i droni infatti sono diventati un elemento centrale per entrambi gli eserciti precisi con alcuni modelli facili da fabbricare e con costi contenuti i droni stanno sostituendo in molti casi il capitale umano impegnato sul campo di battaglia oltre al ruolo di ricognitori per fotografare la situazione sul campo i droni vengono usati da russi e ucraini in maniera regolare anche nelle operazioni offensive in una operazione d'assalto ad un avamposto ad esempio vengono mandati avanti per colpire i nemici e identificarne in maniera più precisa il numero successivamente piccole unità di soldati solitamente meno di 10 entrano in azione per cacciare il nemico il ricorso ai droni è cresciuto esponenzialmente durante il conflitto impiegate all'inizio con più frequenza dagli ucraini ora anche i russi ne fanno uso massiccio dopo gli shahed kamikaze di fabbricazione iraniana mosca ha investito nell'esercito dei droni un'azienda legata al ministero della difesa ha avviato la produzione di 3.000 droni al mese in questi giorni sono arrivati al fronte nuovi velivoli senza pilota da combattimento fpv capaci di volare sotto pioggia e neve per una distanza di 12 chilometri e trasportare fino a 3 chilogrammi di esplosivo un pericolo in più per chiev come conferma il comandante di un plotone di droni nome di battaglia comrade i droni russi sono sempre nell'aria giorno e notte possiamo vedere che hanno implementato la produzione in serie di droni per la ricognizione la sorveglianza e l'attacco i droni sono un punto di svolta dobbiamo stare attenti perché la situazione rischia di deteriorarsi un numero fotografa la centralità dei droni nel conflitto nell'ultima settimana i droni ucraini hanno distrutto 66 mezzi nemici con attacchi portati dal cielo non a caso chiev ha annunciato la produzione di un drone a lungo raggio che può coprire la distanza di mille chilometri la risposta ucraina agli shahed usati dai russi nelle scorse ore gli ucraini hanno riportato un curioso episodio testimoniato dalla centottesima brigata separata delle forze di difesa territoriale delle forze armate ucraine di solito abbiamo bisogno di operazioni portate avanti da unità d'assalto per scacciare il nemico ma questa volta il risultato è stato ottenuto grazie all'azione coordinata di droni e artiglieria diversi attacchi ben mirati in un villaggio hanno portato all'eliminazione di diversi soldati nemici e alla successiva ritirata ancora una volta i droni salvano la vita dei nostri soldati non sono rari scontri aerei tra droni duelli che non prevedono l'uso di proiettili missili o bombe non è raro assistere a quadricotteri con fotocamera utilizzati per spiare le posizioni nemiche che si speronano a vicenda per abbattere l'avversario kentlin lee dell'institute for aerospace studies di arlington è qualcosa mai visto prima quanto vediamo in ucraina suggerisce che tipi ancora più nuovi di conflitti aerei compresi droni da combattimento armati per combattere in tandem con aerei pilotati si stanno facendo avanti la domanda aperta è i droni devono diventare più sofisticati per mantenere le posizioni conquistate per supportare un'operazione combinata con la fanteria impensabili come strumento di guerra qualche anno fa i droni sono destinati ad avere un ruolo sempre più da protagonista il dibattito è già aperto su quale sia la linea rossa per il loro utilizzo dai droni semi autonomi utilizzati ad esempio in operazioni di antiterrorismo ai droni completamente autonomi in grado di prendere decisioni indipendenti e per ora è tutto notizie dell'ucraina è un podcast originale adn kronos se questo podcast è di tuo gradimento seguici anche dalla tua app podcast preferita youtube spotify google podcast apple podcast e spreaker iscriviti al canale o abilita la funzione segui per trovarci più rapidamente e la funzione notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi e se hai un momento lascia una recensione aiuterà gli altri a trovarci più facilmente altre notizie ultime ore